La presenza delle forze dell'ordine sui mezzi pubblici è sinonimo di sicurezza non solo per i passeggeri ma principalmente per tutto il personale del mezzo. In questa direzione va il decreto dell'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Ricò. Anche nel 2023 quindi le forze dell'ordine potranno viaggiare gratuitamente per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico, locale, urbano ed extraurbano su gomma. Il provvedimento è valido a partire dal 1 marzo e riguarda gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia Locale, Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera, Forze Armata dello Stato e il personale di Prefettura che svolge attività di polizia e di ordine pubblico. È un provvedimento, ha detto l'assessore Ricò, particolarmente atteso degli appartenenti alle forze dell'ordine, che il governo Schifani ha voluto inserire nella legge di stabilità e che si concretizza con questo decreto. Si tratta di un segno tangibile di riconoscimento da parte della regione siciliana nei confronti di tutto il personale che ogni giorno si impegna con dedizione per la difesa della legalità.